Buongiorno a tutti, oggi affronteremo il discorso del potere della mente. Sul mio blog luposolitario.blog, tra i tanti articoli, una sezione dedicata proprio al potere della mente. Quindi partiamo dall'inizio, fase 1, presa di coscienza. Premessa, è mia intenzione sviluppare insieme a voi il concetto di mente e del suo enorme potere. Tengo a precisare che non mi ritengo il nuovo messia, non lo sono affatto, credetemi. Non ho la presunzione, tantomeno l'arroganza, di avere capito il senso della vita, anche perché la sua imprevedibilità è tale che risulta praticamente impossibile comprenderla fino in fondo e forse proprio questo suo continuo mutamento la rende così affascinante. Il mio unico intento è quello di intraprendere insieme un percorso di riflessioni, condividendo quell'antico sapere che da sempre alberga nella parte più intima di tutti quanti noi. Ossia una grandezza di tale portata che ci consentirebbe, se opportunamente ascoltata, di compiere un salto evolutivo inimmaginabile, accompagnandoci senza ombra di dubbio verso la vera libertà. Ogni considerazione che leggerete, che ascolterete, è la conseguenza di esperienze di vita vissute sulla mia pelle, stralci di vita che hanno lasciato solchi indelebili nella mia anima, scolpendo col tempo l'uomo che sono oggi. Ripeto il concetto, non ho aperto il vaso di Pandora, non sono uno scienziato, sono uno di voi, un uomo che si alza la mattina con già una bolletta da pagare, un uomo che come tanti cerca di fare al meglio il padre, un uomo che non ha la presunzione di avere sconfitto i propri demoni, ma ha imparato, grazie al percorso fatto, a conviverci. Ritengo che le mie paure, come il mio coraggio, le mie dibolezze, come la mia forza, il mio dolore, come la mia gioia, siano le stesse che appartengono ad ognuno di voi. In quanto esseri umani, queste emozioni ci accomunano, solo, grazie alla nostra unicità, le viviamo in modo differente. Ricordate, ragazzi, siamo noi i padroni della nostra vita, non vincoliamole agli altri, agli eventi, a divinità supreme, non cediamo le armi, combattiamo, scrutiamo a fondo dentro noi stessi per far emergere ciò che veramente siamo, ossia dei inconsapevoli della propria grandezza. Questo è l'inizio, la premessa. Nei prossimi giorni vi leggerò gli altri articoli, perché ci sono varie fasi del percorso mentale che ognuno di noi può fare. Vi saluto, grazie per avermi dedicato il vostro tempo. Alla prossima! Grazie! Grazie!